ciao a tutti ragazzi sono shanin zekram e oggi vorrei portarvi due tcbm con due utenti uno è animus 45 e l'altro è matteo giovanelli cominciamo li ho già aperti perché per assicurarmi insomma vabbè e questo è di animus 45 che ci invia allora due carte belle a mio parere che ho scambiato il cambio di carte ugo che io non faccio niente non ce ne faccio niente dunque grazie ancora un attimo ok è scambiato un latios holo specie delta molto bello e poi un fralligator ex condizioni buone ok l'altro scambio invece da matteo giovanelli mi è un po deluso perché non vi spiego sono matteo invia reshiram ex promo io dovevi inviare a questo utente un reshiram ex promo in cambio di una carta ex mi sembrava strano che accettasse comunque ci ho creduto e mi ha detto che questa carta era in ottime condizioni e poteva scambiare non si tratta di me too ex si avete capito dovevo dare un promo per un me too ex ci vorrei far vedere le condizioni come vedete tutto rovinato non so se si vede bene con questa telecamera però è tutto rovinato ha strisci ovunque è anche piegato guardate qua c'è persino un solico mi dispiace per matteo giovanelli però io avevo detto di volere la carta in ottime condizioni invece è arrivata in pessime condizioni e allora te lo rinvio e niente concludiamo qui ciao tutti ciao 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 ciao